Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il Telecamereman, il tizio che firma tutti i video di questo canale. E benvenuti in una nuova puntata di Telecamereman Recensione d'Oggetti! Allora ragazzi, quanti di voi si ricordano la recensione... quanti di voi si ricordano la recensione delle Tranimals? Scommetto molti. No, perché ragazzi dovete sapere che qualche mese fa è uscita una nuova serie delle Tranimals, chiamata Letranimals Jurassic Combo. Ma Telecamereman! Che c'è spettatore? E sono ancora disponibili questi Letranimals Jurassic Combo? Non lo so spettatore... non lo so spettatore. Penso di sì, non lo so. Ma vabbè. Comunque ragazzi, banda alle ciance e passiamo all'oggetto che dobbiamo recensire oggi. Oggi recensiremo i miei Letranimals Jurassic Combo. Esatto ragazzi, come potete vedere oggi recensiremo i miei Jurassic... i miei Letranimals Jurassic Combo. Che come potete vedere purtroppo ce ne ho solo tre. Ma vabbè. Bene. Adesso ragazzi cominciamo a recensire Dolores. Che è la lettera D. Bene ragazzi. Come potete vedere... come... Come avete potuto vedere questa è la trasformazione di Dolores. E come potete vedere ragazzi sulla carta sta scritto che è un Plesiosaurus. Che si notava fin da subito, ma vabbè. Comunque ragazzi possiamo notare che praticamente è colorato... Praticamente in questo lato è colorato di un viola molto intenso. Mentre... mentre... mentre qui davanti sulla coda, sulle pinne, sulla testa... Possiamo vedere che è colorato di un... di un rosa tipo violetto molto molto chiaro. Ma vabbè. Bene ragazzi. Ora recensiamo Fast. Ok. Avete visto ora pure la trasformazione di Fast. Allora. Senza che io vi legga la carta ragazzi... Fast si vede già che è un Opterodattilo. Dai, non ditemi che uno di voi l'ha scambiato per un... per un uccello o un cigno. Perché a me non sembra un cigno. Vedete, lo dice lo... lo dice lo stesso la carta. È un Archeopteryx. What the fuck? Allora scusate. Non è un Opterodattilo, è un Archeopteryx. Mi sono confuso. Vabbè. Possiamo vedere ragazzi che in questi lati qua è colorato dello stesso colore della pelle di Dolores. E qui ragazzi possiamo vedere che è colorato di un tipo... un rosa molto chiaro. Guardate. Comunque ragazzi, questo Fast è veramente molto bello. A differenza di quello della prima serie è molto bello. Ma vabbè. Bene ragazzi, ora recensiamo Iron. Ok. Allora ragazzi, senza che vi legga la carta, come potete vedere Iron è uno sbilodonte. E possiamo vedere che in alcune parti è colorato di un arancione molto acceso. E possiamo vedere che sulla testa e sulle gambe e sulla coda è colorato di un arancione molto 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 chiaro. Che anche ce l'ho questo colore. Comunque ragazzi, vi voglio far vedere che lo stesso la carta, perché ragazzi, sulla carta è fighissimo. Guardate come è stato disegnato. No, ya. Sì, però qua sotto, perché invece di chiamarlo smilodonte l'hanno chiamato Dinoflex? Scusa, perché? Vabbè, forse sarà il nome dell'elemento. Forse sarà il nome dell'elemento della fiamma, ma vabbè. E come potete vedere ragazzi, potete vedere che sul fanbook praticamente c'è tutta la collezione. Tra cui, quelli che ho. Per ora veramente ragazzi, quello che mi sarebbe piaciuto trovare sarebbe Gekko. Mi sarebbe piaciuto trovare questo qua. Perché ragazzi, per la mia gioia, Gekko è un dilofosauro. No, ya, ma è bellissimo. È bellissimo questo Gekko, ragazzi. Ma vabbè, poi ce ne sarebbero anche altri. Come questo qui. O questo qui. Poi ci sono quelli speciali che si illumina al buio. Come Bed. Hermes. Che è un panda. E Ton. Che sta pure dietro la busta. Poi ragazzi, se volete andare in edicola e li volete comprare, la bustina che dovete vedere è questa qui. Con un gorilla guerriero e uno stiracosauro e un letto Animal Soviraptor. Ma vabbè. Comunque ragazzi, il video di oggi finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi a Gaetano e il suo canale ad Erosa. E attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video. E mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche su TikTok, che è anche quello importante. Per chi lo vuole sapere, il mio profilo TikTok si chiama Gaetano e c'è TikTok. Scrivetelo tutto attaccato, mi raccomando. Ok, bene. E mi raccomando, seguite pure MarioGamer68 sia su YouTube sia su TikTok. Mentre il nome del profilo TikTok di MarioGamer68 è MattiMattias0. Anche scritto tutto attaccato. Ma vabbè. Comunque ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grrrr!